Al termine del consiglio d'amministrazione di BasicNet, riunito sotto la presidenza di Marco Boglione, l'amministratore delegato Franco Spalla, illustra ai colleghi i dati di bilancio del 2011 appena approvato. Crescono nel mondo le vendite aggregate dei prodotti a marchi del gruppo, 422 milioni di euro contro i 367 milioni del 2010, più 15%, con un utile netto di 8,1 milioni di euro e un ottimo sviluppo di tutti i mercati internazionali, in particolare Asia e Oceania, più 78%, Medio Oriente e Africa, più 22%. Segno più anche per royalties attive e commissioni di sourcing, 38 milioni di euro, contro i 32 del 2010, più 17,2%, in aumento le vendite nei monomarchi italiani, più 20%, 78 le nuove aperture da inizio 2011, per un totale di 257 unità a fine esercizio, ulteriore miglioramento, 9,6% della posizione finanziaria netta. In crescita la liquidità disponibile della capogruppo BasicNet, 41,5 milioni di euro. Il Consiglio di amministrazione ha confermato il dividendo di 0,05 euro per azione. Nel pomeriggio il presidente di BasicItalia, Elisabetta Rolando, presenta ai colleghi di strada della Cebrosa i dati approvati del bilancio 2011 del licenziatario italiano. Franco Spalla conferma l'impegno di BasicNet al rafforzamento patrimoniale di BasicItalia, destinando a tal fine 10 milioni di euro, già versati nelle casse della società.